E' entrato nella palestra situata in Vivrea Cornier e si è accasciato a terra a causa di un malore davanti all'erception. E' accaduto oggi, il mercoledì 17 ottobre, intorno alle 13.30, a un 59enne di Cornier. Sul posto sono appuntamenti intervenuti l'ambulanza della Cisci Bianca del Canavese, la Cisci Rosiera di Ceramonte e l'erisoccorso del 118, che è atterrato nel piazzale del Ponte Vecchio, oltre ai carabinieri di Ponte Canavese. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato ritrasportato all'ospedale di Ciriè in gravi condizioni. Grazie a tutti.